Eccoci ragazzi, eccoci, benvenuti su Redoc, in un inizio un po' così, perché io so già che questa è la top che mi rovinerà. Io faccio questa top tipo con un fucile puntato alla faccia, perché oggi andiamo a fare la top 10 personaggi più forti di One Piece, tra parentesi, in vita. È una top che avete richiesto voi, quindi colgo anche l'occasione per ricordarvi, ragazzi, noi i vostri commenti li teniamo in considerazione. Quindi, se avete un'idea per qualche top, per qualche argomento che vi può interessare, che secondo voi è interessante anche per gli altri, scrivetela nei commenti e la trarremo in considerazione. Calcolate che comunque noi facciamo un bordello di contenuti ogni settimana, quindi prima o poi qualcosa di vostro uscirà. E in più vi dico anche che stiamo per lanciare anche i nostri video tema videoludico, ok? Non gameplay, ma proprio sulla lore dei videogiochi, in pieno stile Redoc. Quindi, se volete anche delle top per quel genere lì, scrivete anche top di quel genere, appunto, nei commenti. E, ok, allora, ci sono un po' di premesse da fare prima di fare questa classifica. Ho voluto inserire intanto tutti i personaggi vivi, perché secondo me ci sta. E in più ho voluto inserire personaggi di cui almeno una volta, almeno una volta, vediamo il potere, ok? Questo non vuol dire che tutti questi personaggi li abbiamo visti combattere. Non vuol dire assolutamente questo. Cioè, assolutamente. Anche perché molti personaggi sappiamo che sono fortissimi, ma li abbiamo visti magari un secondo che usano nel loro potere, che però è devastante e quindi li lasci lì. Tu sai che sono devastanti perché hanno magari una taglia altissima o sono a capo di qualche gruppo pericoloso. Già mi riferisco a qualcuno. Bene, diciamo che questi personaggi qui, che abbiamo visto pochissimo, se hanno utilizzato il loro potere nel manga, quindi proprio che l'abbiamo visto, sono stati inseriti. E vi dico anche che, essendo che molti di loro, come vi ho già detto, più volte veramente si vedono per pochissimi secondi, questa classifica è anche frutto di moltissime illazioni. Ma moltissime. Perché giustamente è così che bisogna fare. Altrimenti, se dobbiamo per forza inserire solo i personaggi che abbiamo visto combattere al 100%, allora questa classifica sarebbe completamente diversa. Però, se io non avessi inserito alcuni di questi personaggi, soprattutto, diciamocelo, dalle prime tre posizioni, molta gente si sarebbe lamentata. Quindi, ragazzi, ho voluto fare un video del genere. Spero che vi piaccia. Prima di cominciare, scusate per l'intro lunghissima, ma vi voglio ricordare che il nostro progetto va avanti anche grazie alla nostra pagina Instagram, che sta prendendo sempre più piede. Comunque, trovate il link in descrizione, andateci a trovare anche lì e andateci a supportare anche lì. Detto questo, vi direi che possiamo cominciare. Partiamo dalla decima posizione e dalla decima posizione ho voluto inserire Marco la Fenice. Allora, lui è un primo comandante, però tra molte virgolette, perché Marco è molto più di un primo comandante. Per chi ha seguito con amore Onigashima, come me, sa benissimo che Marco ha dato proprio prova di essere su un altro livello. Se noi prendiamo personaggi come King e Queen, che di fatto sono i primi comandanti di Kaido, tra parentesi, Kaido io lo considero morto, anche la Wiki lo considera morto, quindi non sarà presente in questa classifica. Comunque, se noi consideriamo loro due, che sono dei comandanti fortissimi, King dovrebbe essere un primo comandante, loro due insieme sono andati praticamente alla pari di Marco, che poi ovviamente si è dovuto tirare indietro perché era troppo stanco. E io direi, giustamente, ma nonostante questo, ragazzi, uno come Marco, come poteva non essere in questa classifica? Contando comunque i personaggi molto più potenti che ci sono più avanti, essere in questa classifica, per uno che non è capitano, non è un marine strano, è solo un pirata ritirato, anche abbastanza giovane in realtà, è un'impresa, devo dire. Comunque, la potenza di Marco, secondo me, l'ha dimostrata più a Onigashima che a Marineford. A Onigashima, secondo me, Oda si è proprio sbizzarrito, ha detto, ma sì, adesso fatemi riprendere sto personaggio e vi faccio vedere io come combatte una fenice, porca miseria. Infatti è veramente pazzesco, la gente era impazzita quando l'ha visto e ha fatto bene. Quindi Marco, per quanto mi riguarda, doveva stare di diritto in questa classifica, di diritto. E in nona posizione, invece, ragazzi, abbiamo un ammiraglio, che è Kizaru. Allora, ho voluto inserire Kizaru e inserendo Kizaru, in realtà, richiamo anche un pochino gli altri due ammiragli, che sono Fujitora e Ryokugyu. Perché ho voluto inserire Kizaru? Intanto, secondo me, è incredibilmente sottovalutato, perché le uniche due volte che lo vediamo combattere, anzi tre, perché in realtà c'è anche il flashback di Arlong, ma comunque anche quella volta lì, è super annoiato. Cioè non gli tiene frega niente di combattere, in tutte e tre le volte. Ma questa è una caratteristica proprio di Kizaru, il fatto che sia pigro, che sia lento, che va ovviamente in contrasto col suo frutto del diavolo, che, possiamo dircelo tranquillamente, è il frutto del diavolo più veloce nella storia di One Piece. Non credo esisterà mai un frutto del diavolo più veloce di questo. Di fatti, Kizaru ha il frutto del diavolo della luce, di tipo Roja, quindi teoricamente anche intangibile. Poi, certo, Lucky ha un pochettino di destabilizzato la definizione dei frutti Roja, però è intangibile, è velocissimo, è fortissimo, e non l'abbiamo ancora visto al pieno della potenza. Credo che la saga di Egghead sarà l'occasione adatta. In più, l'ho voluto inserire sopra Marco, perché da quello che ci dice Ryokugyu, per un ammiraglio i primi comandanti non sono niente. Poi, per carità, se me lo chiedete a me, Marco, per esempio, contro Ryokugyu e Fujitora potrebbe anche cavarsela, ma Marco, come abbiamo detto, non è un primo ammiraglio, è qualcosa di più. Kizaru, allo stesso tempo, ha molto più esperienza sia di Fujitora che di Ryokugyu, quindi per forza, per forza, è un gradino sopra loro. E poi, oh, tra poco lo vedremo, per me, Kizaru è anche un grandissimo personaggio. Magari un giorno faremo una top personaggi più sottovalutati di One Piece e lui dovrà essere presente, molto probabilmente. In ottava posizione troviamo un ex ammiraglio, adesso grande ammiraglio, che sarebbe Akainu. Ragazzi, per quanto riguarda Akainu, veramente, c'è molto da dire. A me dispiace tanto metterlo in ottava posizione, ma l'ho voluto mettere in ottava posizione per ora perché Akainu ha fatto vedere pochissimo per quanto riguarda Lucky e, avendo un frutto roja, secondo me è molto svantaggiato rispetto a tutti quelli che vedremo più in su. Quindi ve lo dico, se nei prossimi capitoli, tra un annetto o due, scopriremo che Akainu sa utilizzare Lucky dell'armatura, slash Lucky dell'osservazione, slash quello del Reconquistatore che, tra l'altro, non è confermato, allora lui si merita, secondo me, di stare anche in quinta posizione. Quindi fate finta che Akainu sia in quinta posizione in futuro. Comunque, il grande ammiraglio della Marina, anche lui ha un frutto roja, nel suo caso il frutto roja più offensivo in assoluto che è quello del magma. Purtroppo Lucky ha un po' destabilizzato tutte queste cose, ci sta, perché comunque i roja erano diventati qualcosa di quasi ingestibile, per Oda, ma Akainu non poteva non essere in questa lista e ovviamente, ragazzi, non poteva non essere sopra Kizaru. D'altronde, grande ammiraglio, batte ammiraglio, cioè, lo dice proprio la carica, quindi per forza di cose doveva essere presente. In settima posizione, invece, ragazzi, ho voluto inserire un personaggio che, mea culpa, ragazzi, pensavo non fosse così tanto potente, ma gli ultimi capitoli mi hanno un pochettino fatto cambiare idea ed è Garp. Tra parentesi, non voglio fare il fanboy che dice che Garp avrebbe ucciso Akainu a Marineford, perché molti lo dicono, anch'io probabilmente l'ho pensato, però come ho detto, se Akainu sa utilizzare Lucky, secondo me non c'è storia, vincerebbe il grande ammiraglio. Però per quello che ci hanno fatto vedere fino a questo momento, Garp veramente ha fatto il devasto, cioè, Garp ha tirato un pugno serio, proprio la One Punch Man in One Piece, è stato ad Acinosu qualche capitolo fa, e ha distrutto quasi un'isola, con un pugno, col suo Aki, cioè, capite ragazzi? Quindi stiamo parlando di un personaggio veramente incredibile. In più, se dobbiamo calcolare il tutto, non solo l'attualità, comunque ci sta perché lui è ancora in vita, io calcolo anche un pochettino il Prime, cioè, almeno tengo conto del suo Prime, quando lui quasi distrugge l'isola di Acinosu dopo il suo pugno, ed è luso perché dice che tempo fa era molto, molto più forte. Quindi, oh, ragazzi, sto personaggio è così, è fortissimo, con un pugno ti devasta, c'è poco da dire, ha un ammiraglio che non sa utilizzare l'Aki, cioè, Garp vince, perché Garp va bene il magma, ma ti devasta col suo pugno, cioè, chi ha letto il manga sa, chi ha letto il manga sa. E in sesta posizione, ragazzi, qua forse sarà la posizione più discussa in assoluto, ho voluto inserire Luffy, in particolare parliamo di Luffy dal Gear 5th in poi. Molti forse storceranno il naso perché mettere il protagonista così in alto, contando che il viaggio, secondo me, è ancora molto lungo, effettivamente sembra un po' strano, e molti diranno, ma cavolo, Luffy non fa quello che ha fatto Garp, da Cinosu, per dire. Ma in realtà sì, cioè, magari Luffy non lo fa solo con un pugno normale pieno di Aki, però io vi devo ricordare la finisher che ha usato contro Kaido, cioè, quel pugno gigante, grande tanto quanto Nigashima, alla fine, vuoi o non vuoi, pure il ricoperto di Aki, fa danni incredibili. Garp avrà sicuramente un Aki del Re Conquistatore molto, molto più grande di quello di Luffy, ma questo non lo metto in dubbio, però, cioè, Luffy è capace di ingrandire i suoi arti, e questa cosa è stata proprio una delle basi delle metodi di combattimento di One Piece, anzi, di Luffy in particolare, e dal Gear 15 poi questa cosa si è evoluta proprio ai massimi livelli. Quindi per me Luffy, anche personaggio che comunque, diciamocelo, ha sconfitto Kaido, magari non in una 1v1 pura, perché Kaido aveva affrontato tutti quanti prima di lui, per me Luffy se lo merita questo posto. La sesta posizione se la merita e come. In quinta posizione, invece, ho voluto inserire Barba Nera. Allora, Barba Nera, anche lui, il discorso è abbastanza simile a quello di Akaimu. Secondo me, personaggio che tanto sarà importantissimo molto più avanti, cioè più avanti sarà un villain di saga per forza, poi c'è ancora tutto questo discorso del dualismo tra Luffy, Barba Nera, forse addirittura un dualismo che si porta avanti da secoli, no? Una roba bianco contro nero, scurità contro luce, una roba del genere, sicuramente ci sarà, quindi lui deve essere più forte di come l'abbiamo visto. Per quanto mi riguarda, in futuro potrebbe avere anche un altro power up per renderlo ancora più forte, perché al momento c'è da dire una cosa, lui è un imperatore e non ha nessun Aki, almeno non ha Aki confermato, ok? Poi, se voi mi chiedete a me, Marra, ma secondo te sa utilizzare l'Aki e che tipi di Aki sa utilizzare? Ma per me, se uno è imperatore e deve essere uno dei villi in finale in futuro, per me li sa utilizzare tutti e tre, altrimenti che scontro è? Cioè, Luffy arriva a tre secondi, lo spacca e non c'è gusto. Visto che sarà uno dei villi in finale e un imperatore, per me sa utilizzare tutti e tre i tipi di Aki, compreso l'Aki da Deconquistatore, nei colpi, quindi, oh, ragazzi, anche se è un personaggio di fatto costruito sui frutti del diavolo, di fatti è l'unico personaggio in assoluto nella storia di One Piece che ha mangiato due frutti del diavolo e non due frutti del diavolo a caso, lo yami yami no mi, il frutto dell'oscurità è il gura gura, il frutto del terremoto, quindi un personaggio così non poteva non essere in questa lista. Anche qui, questo è un quarto posto, diciamo, anzi un quinto posto, scusatemi, sulla fiducia, perché in realtà Luffy ci ha dimostrato molto di più, anche perché di Luffy abbiamo visto molto di più. Però, secondo me, Barba Nera, conoscendolo al suo asso nella manica, visto che non è ancora il momento di incontrare Luffy, magari lui ha ancora un pochettino di margine di miglioramento, Luffy probabilmente si potenzierà anche dopo questa saga, come tutte le saghe, come è giusto che sia, quindi, ragazzi, lui deve essere un po' più forte di così, deve esserlo per forza. In quarta posizione, invece, ragazzi, ho voluto inserire un altro personaggio, che qui, secondo me, mi massacrerete, però in quarta posizione ho voluto inserire Miyok. Miyok, pochi motivi, in realtà, per cui ho inserito Miyok. Intanto, anche lui, discorso simile a Kizaru. Le pochissime volte che l'abbiamo visto combattere, non era annoiato di più, cioè, peggio di Kizaru, proprio non gliene poteva fregare niente, era lì, giusto perché doveva essere lì. Sia nel caso di Zoro, che, vabbè, lì stiamo parlando dell'Est Blu, quindi anche proprio a livello di potenza, di come sarebbe dovuto evolversi One Piece, Soda era alle prime armi, diciamoci. Poi a Marineford, lì, dà proprio un colpo di spada, proprio annoiato, e viene fermato da Diamond Josu perché è al frutto del diamante. Detto questo, per quanto riguarda lui e il suo Aki, io mi aspetto tantissime cose, perché io vi ricordo l'informazione principale che fa alzare tantissimo l'asticella di Hype verso questo personaggio, che, di fatto, è lo spacino più forte del mondo, e che da giovane era praticamente al pari di Shanks e i loro duelli erano conosciuti in tutto il mondo, punto. Quindi se voi pensate ai colpi che ha dato Shanks negli ultimi capitoli, ok, quindi quello che abbiamo visto da parte di Shanks, io me lo aspetto anche da Miok, se non qualcosa anche di più particolare, più legato alla Yoru, che è questa spada gigantesca molto molto particolare e molto interessante. Qualcosa di estremamente simile io me l'aspetto, perché comunque, come stiamo dicendo tanto in questo periodo, l'Aki ormai comanda, e comanda di brutto, quindi sì ragazzi, cioè Miok deve stare in questa classifica e dato che personaggi come Barba Nera, che secondo me, eh, metto le mani avanti, quando avranno magari il loro power-up, avranno il momento di brillare veramente, oh, eh, ci sembreranno sicuramente più forti di Miok in futuro. Ve la dico, ve la butto lì, eh, può essere assolutamente. Però per adesso Miok, contando l'Aki, che sicuramente ha, deve stare in questa posizione. In terza posizione, invece, ho voluto inserire uno di quei personaggi di cui vi parlavo poco fa, quindi personaggi di cui abbiamo visto, scusatemi, i poteri, ma che non conosciamo, non conosciamo nulla, non sappiamo effettivamente come combatte, come sia forte, ma questa posizione si basa più che altro su teorie e illazioni. E questo personaggio è Dragon, ovviamente, ragazzi. Allora, di Dragon si sono visti i poteri, perché ogni volta che Dragon compare c'è una tempesta, c'è tantissimo vento. Poi, non voglio sbilanciarmi dicendomi che è un frutto del vento, no, non lo diciamo assolutamente, anche se è quasi palese. Comunque, ha un frutto che sicuramente è collegato al vento, diciamolo. Poi, ovviamente, ci sarà sempre gente che non ci crede, anche se è una cosa che si vede spessissima, tutte le volte che si vede Dragon, di fatto. Non si sa, ovviamente, se sia un Roger, se sia un... alla fine magari Oda ci sorprende ed è un altro potere, tipo, fatto da Lucky, non lo so. Però, comunque, questo personaggio è sicuramente potentissimo. Non si conosce la taglia esatta di Dragon e questo ve lo voglio specificare, perché tempo fa abbiamo fatto un video sulle taglie più alte di One Piece e molti dicevano, ma, scusami, Dragon come mai non è nel primo posto? Perché si sa che Dragon è l'uomo più ricercato del mondo, ma non si è la sua taglia, quindi non possiamo assolutamente fare illazioni sulla taglia che porta questo personaggio. Quello che vi posso dire io è che Barba Bianca, quando è morto, aveva una taglia di 5 miliardi e 46 milioni. Dragon era già capo degli rivoluzionari quando Barba Bianca era ancora vivo, quindi, secondo me, la taglia di Dragon deve essere più alta di 5 miliardi e 46 milioni. Quanto? Ma, non lo so. Calcolate che la taglia di Roger, invece, era una taglia di 5 miliardi e 564 milioni e 800 mila Barry, quindi non so se la sua taglia raggiunge quella di Roger. Cioè, sinceramente non lo so, vi dico la verità. Però, secondo me, tra Roger e Barba Bianca, una taglia del genere ci può stare. Contando il fatto che, comunque, viene da una bella stirpe, bella cazzuta, cioè, suo figlio Luffy, e suo padre, e Garp, quindi, sicuramente, ha una potenza inaudita, è capo dei rivoluzionari, è il personaggio più ricercato, almeno nella top 3, doveva starci questo personaggio. Dai, ragazzi. E in seconda posizione, invece, parliamo ancora di Aki. Ancora, ancora di Aki. E qua, proprio l'apoteosi dell'Aki. Stiamo parlando, ragazzi, di Shanks, il Rosso, che negli ultimi capitoli, ok, ci ha veramente donato momenti incredibili. Parlo soprattutto del suo colpo contro Kid. Diciamo che quella scena lì, che è una scena veramente molto breve, ok, sono due pagine, cioè, in quelle due pagine lì, Oda ci ha fatto capire una cosa. Oda ci ha fatto capire che Aki, se usato come Cristo comanda, è invincibile. Cioè, Shanks prevede di molto, di moltissimi secondi, l'attacco di Kid, che ricordiamo, non è un cretino qualunque. Kid ha 3 miliardi di Barry come taglia. 3 miliardi! Cioè, tantissimo. È come Luffy. È tantissimo. Ha partecipato a Niga Shima, ha sconfitto Big Bang insieme a Lou. Cioè, ricordiamoci, eh, questa cosa. Comunque, Shanks, grazie a Aki dell'osservazione avanzato, prevede l'attacco. In due secondi, arriva lì davanti, tira un colpo di Aki che non si è mai visto e lo spacca. In un colpo. Quindi, cioè, Shanks tanta roba. Shanks probabilmente ha sempre avuto una taglia un po' più bassa di quella dei suoi colleghi, Big Bang e Kaido, perché, come ci è stato confermato in quello stesso capitolo, Shanks ha una flotta molto, molto scarsa. E ricordiamo che la taglia non indica per forza la forza, ma indica la pericolosità. e spesso e volentieri, a mio parere, indica anche la flotta, la ciurma su cui comandi. Contanto che la flotta di Shanks, a differenza di quella di Kaido e Big Mom, è veramente scarsa, e allora quella taglia, secondo me, meriterebbe di essere pompata un po' di più, almeno sotto gli occhi della community. Ma, comunque, sotto gli occhi della community c'è il fatto che Shanks abbia one-shot-tato una supernova da una taglia di 3 miliardi, letteralmente, in due pagine. quindi non poteva non essere in questa classifica, anche senza frutto del diavolo. E in prima posizione, ovviamente, non poteva non esserci lui o lei o qualcuno. E Im, ragazzi, Im, dovera per forza essere in prima posizione. Im l'ho voluto inserire per un semplice motivo, cioè il fatto che il suo potere, teoricamente, si vede. Cioè, lui cancella Lulusia. Parlo principalmente di quella famosa scena in cui tutti gli assi di saggezza e i vari membri della marina intercettano la chiamata di Sabo verso i suoi compagni rivoluzionari. Questa chiamata proviene dall'Ulusia, scopriremo poi che in realtà Sabo era un po' distante dall'isola, era su una nave e tutti i Gorosei fanno spegnere i collegamenti. La scena dopo vediamo Im che apre l'occhio e vediamo un qualcosa di strano cadere sull'isola, distruggendola completamente, facendola scomparire e causando maremoti per settimane, per le settimane successive. non sappiamo assolutamente cosa sia quella massa enorme. Io teorizzo da parecchio tempo che sia semplicemente Aki, quindi un'evoluzione dell'Aki del conquistatore potrebbe essere. Alcuni teorizzano a una sottospecie di meteorite, io non credo perché sarebbe troppo simile ai poteri di Fujitora, alcuni notano una somiglianza con i poteri di Eneru, ma anche lì il potere ce l'ha Eneru teoricamente, quindi non c'entra niente. Non si sa, ecco facciamo così, facciamo che non si sa. Sappiamo solo che è capace di questo, è capace di distruggere un'isola intera, fine. Questo è quello che sappiamo. Bene, ragazzi, io direi che la classifica è a posto così. Io adesso so già i commenti perché ovviamente ve lo dico la verità, questa è proprio una classifica sofferta perché è veramente difficile fare una classifica del genere, sapete quanto io sono collegato a One Piece, quanto sono legato a One Piece anche per l'altro canale ovviamente. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente scrivetemi la vostra classifica personale nei commenti e quello che vi voglio dire per questo video e come al solito ragazzi è che questo canale è portato avanti anche grazie dal nostro store. Il nostro store in cui vendiamo tantissimi prodotti soprattutto a tema One Piece e soprattutto le taglie dei poster, i poster di taglia quelli che sono veramente molto amati comunque li trovate nella sezione poster del nostro store vi ricordo il codice sconto YouTube che potete utilizzare una volta al mese quindi se già l'avete utilizzato potete già utilizzarlo mi raccomando non dimenticatevelo e niente ragazzi grazie mille per aver visto anche questo video io vi ricordo di dare un'occhiata anche all'abbonamento di Redoc perché abbiamo tante novità e niente mi raccomando fate i bravi noi ci vediamo a prestissimo ragazzi ciao a tutti